Volevamo fare qualche cosina in più, giocare un po' meglio, però l'importante è che l'obiettivo primario è stato raggiunto, che era quello della qualificazione. Sono usciti anche lo Zenit, la Tredi Bilbao, il Tottenham che è sempre sta fareggiando, il bootmaker di nome c'è la Roma e il Manchester United, la Spalletti non si è voluto sbilanciare, la tua squadra cosa ne pensi? Io sono col mister, sappiamo che in competizioni del genere tutto è possibile, quindi noi cercheremo di tenere duro ogni partita e di cercare di andare il più avanti possibile, poi magari se abbiamo la fortuna di andare fino in fondo, meglio. Arriviamo in un periodo decisivo, in campionato con l'Inter e Napoli e in mezzo del derby, speri anche tu di avere spazio per dimostrare il tuo valore? Qualsiasi giocatore spera di giocare il più possibile, io sinceramente in questo periodo spero che la squadra continua a fare bene e che si possa raggiungere tutti gli obiettivi che abbiamo e cercare di fare bene ogni partita.